e spiegare in panestra da me però non paghi mica l'abbonamento figa ha il gusto di tenere in basti che vuoi? e forse anche un pello andrò lascia lì Calimberti andi a cagare ascoltate col settile ruso al per proprio in questa biera e se non può smigare le nere senza aria condizionata a dog